questo è un video però giustamente questo sì sì ma è proprio necessario probabile ecco gli avventuriosi avventurosi avventurieri venturiosi che si fanno il primo meridiano qui si scivola il cappello non lo so vedremo tutt'al più prenderemo il macete però l'ha vista merita adesso migliora nel senso che finisce tutto e finiamo di sotto dai che siamo vicini ecco gli avventurieri ecco è morto un avventuriero torniamo nella grande savana mi sembra adesso controllatina al gps siamo vicini continuiamo a fare i lemmings per un po' continuiamo ancora un po' continuiamo a fare i lemmings per un po' per un po' no gli occhiali dopo aver ritrovato gli occhiali possiamo continuare gli ultimi metri arriva qualcuna la trovava eccola e marzio trova la cash e dentro ci stanno almeno 20 mila euro esatto e dove siamo noi dove ci vedete siamo arrivati si la volevo trovare io ah non c'è l'aura 3 2 1 un macello non ce la c'è un macello trackball niente che belle cose vilmo c'è una moneta di romania c'è sotto quel sasso questi potrebbero essere i compagnucci di ciabatte e quello sarebbe il logbook contenti? che dite di questa esperienza wild? guarda che il video non si può allegare a quando fai il logbook bene questa avventura per ora finisce qua dobbiamo solo ritornare indietro ma donna benedetta e dai sempre con sto dito e infine come hai detto uscimmo a rivederle stelle e in fine uscimmo a rivederle stelle non gliela fa più ma io uffa ma era una foto o un video? ah era un video perfetto